ciao lattini ciao lattini bentornati siamo tornati con un altro uovo di pasqua come promesso sì e cosa abbiamo davanti miraculus allora il kindergan sorpresa maxi perché hanno fatto tante linee c'è quello normale c'è quello gigante c'è quello ma esatto di tutto di più e appunto qui ci sono quattro potete trovare quattro sorprese appunto di ladybug la cosa bella che hanno degli accessori di lato e quindi non so tipo c'è la casa di mainette che un porta penne poi c'è tipo i spicchiettini e c'è anche una sorpresa molto carina che è il il porta miracolos praticamente il contitore che contiene i vari miracolos e quello cioè noi speriamo in quello lì sì però non è detto quindi vediamo un po cosa troviamo appunto è maxi quindi hanno messo solo anche di più controviene questo oddio noi abbiamo pagato 15 15 90 14 90 comunque sono mai poi quello ancora più grosso viene 20 che è di star wars e delle principessi disney allora e vabbè la confezione è sempre quella quindi è uguale a tutti e poi ci dice appunto che questo prese per la novità di ladybug ha fatto però solamente lei cioè non c'è tipo chiano a rena rouge quindi quindi potete trovare sempre ladybug poi quello che cambia appunto è la posa e l'accessorio di fianco adesso sicuro insomma se vi piacere di baci sì 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 ok andiamo ad aprirlo perché sono curiosissimo anch'io e poi bene potremo anche fare la prova della sorpresa questa volta cosa dici ma si deve questa volta la facciamo la comodità ragazzi perché si hanno messo una linguettina all'inizio io sto semplicemente tirando quindi meno male comodo lui hanno ero lì pronti con il coltello e invece non serve allora vabbè sto a covalere la carta apriamo e c'è bel cioccolato kinder ma è tutto decorato è tutto decorato perché sembra l'uomo di drago l'ho covato luke sì io le covo le uova e kinder c'è pure la marca sopra ah è tutto decorato è vero frisato no fa tanto tipo il tono di spade no perché ci sono le uova i draghi lì ci sono tutte le uova di drago comunque facendo la cappellina andiamo ad aprire sì wow che buono se ci fa no aspetta aspetta allora dai sposta così facciamo dai mangiare non lo so che buono maggiore un pittino piccantino eh sì certo buono tosta cosa ok cosa troveremo c'è un tre disegnato col cioccolato coincidenza io non credo dai ma è stufu no il ma è stufu la scatolina allora la casa di marinette che abbiamo già con la grossa che ci ha inviato bandai quindi giustamente abbiamo pure quella piccola non ci facciamo anche niente il project list vediamo si facciamo fuori tutto allora c'è anche gli adesivi per sistemare la casetta queste istruzioni appunto do l'ora delle kinder app scan play adesso do l'ora di for free faremo anche questo anche questo appunto questo è le istruzioni mi raccomando di vita se ve la facciamo vedere appunto qui ci sono le istruzioni su come montarla è un po' ta penna quindi anche ci sono regali utili eccoci qua abbiamo un tante la sorpresa guardate un po' quante c'è la debug che sta facendo la sua posa abbiamo un botto di questi soppositi di debug cioè non proprio lei però dico ne abbiamo costruzioni tanti questi anni anche perché è da anni che è avanti questo fenomeno quindi questo appunto è la casetta con gli adesivi attaccati sì e un po' di penne possiamo mettereci le penne anche se forse è troppo basso più matitini che penne abbiamo anche la cartolina con il codice adesso abbiamo preso l'applicazione e proviamo subito a giocare qua pasqua kinder comunque se andate sul sito ve la sky qua in automatico eccolo eccolo qua pasqua kinder il codice può scansionare infatti c'è il codice qua io lo scansiono eccolo eccolo praticamente c'è una mini debug si che si muove alla puta diciamo ho accolto ascoltami ciao l'edit bug scatta una foto buona pasqua vuoi vedere la foto qui beh è una cosa carina no? cioè che è una cosa comunque che si aggiunge al esatto al gioco Poi se andiamo qua ci sarà la 1 Che meno no Vabbè insomma comunque diciamo che Vabbè la cosa è extra Cioè non fa molto quindi Però vabbè sai Ecco Possiamo uscire Era un po' per darvi l'idea appunto Del gioco Noi molto probabilmente ne prendiamo alte Perché ci piace davvero tanto Quindi vogliamo prendere anche La scatolina che mi ha Insomma a prezzo di 15 euro a botta Però magari Magari ci regalano Oppure il giorno stesso di Pasqua Il giorno dopo te li tirano dietro Anche se rimangono perché le di bug Va subito via Comunque niente Il video è finito Fateci sapere nei commenti come Come vi sembra La sorpresa se voi ne avete preso Qualcun altro È fatta bene Sì sono un po' gli occhi Che mi gomigliano tanto Eh ma è sempre così Sono un po' strano Ma vabbè Comunque La Kind Quest'anno non ha fatto le Winx Ma l'ha fatta lavavola Dovevamo recensire anche il logo Sperando di trovarlo Sì e poi Vediamo appunto Se recensire All Disney Princess Star Wars Vediamo 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 un po' Insomma Ancora un po' Sì sì Ma è tipo un mesetto Quindi ci sta Va bene Allora noi vi aspettiamo Come sempre Nei commenti E in tutti i nostri social Che Duke ricorderà Facebook Instagram TikTok Bravissimo E Telegram Telegram Cosmo Il mio cover È vostro Ciao Ciao I don't care I love it